Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Nell'ultima puntata del programma E chi l'ha visto, abbiamo assistito all'apertura di un capitolo inedito nel giallo che circonda la scomparsa di Liliana Resinovich. Abbiamo avuto l'onore di ospitare in studio figure di spicco come Claudio Sterpin, il fratello di Liliana, e il suo avvocato, venuti per discutere di novità e possibili svolte nel caso. Il dibattito si è rivelato estremamente coinvolgente, soprattutto quando si è passati ad analizzare le chiamate effettuate da Sterpin a Liliana nel giorno cruciale della sua sparizione, il 14 dicembre 2021. Sebastiano Vicentin, marito di Liliana, ha rivelato di aver intercettato una di queste telefonate, durante la quale ha avvertito un'atmosfera tesa, un dettaglio che Liliana gli aveva precedentemente segnalato come frequente. La discussione ha poi virato sugli eventi antecedenti alla scoperta della scomparsa di Liliana, evidenziando il fervente tentativo di Sterpin di mettersi in contatto con lei attraverso varie chiamate e messaggi. Una comunicazione tentata alle 14.56 ha catturato una voce maschile, non identificata con certezza come quella di Vicentin. Successivamente, nel tardo pomeriggio, mentre si accingeva a presentare la denuncia di scomparsa della moglie, Vicentin optò per bloccare il numero di Sterpin, decisione che ha poi revocato solo cinque giorni dopo per poterlo chiamare. L'avvocato della famiglia Resinovic ha sollevato dubbi su queste mosse, proponendo come fattori significativi per le indagini.